perfetto allora dovrei avere avuto l'ok da zoom per partire ragazzi vi do di nuovo un buon pomeriggio benvenuti a quella che tra l'altro è l'ultima esperienza online dell'anno solare di joiners perché poi ci prendiamo una pausa per programmare tutto ciò che ci sarà a partire da settembre anche perché poi il caldo diventa eccessivo però mi fa piacere perché noi temerari siamo qui non ci stacca nessuno dallo schermo di un computer grazie a voi per esservi iscritti e per essere in diretta qui con noi e per farci compagnia i prossimi 60 minuti perché quest'asky char organizzato da qualche settimana mi auguro sia frizzantino ci vogliamo divertire vogliamo scoprire qualche segreto qualcosa che non avete mai saputo da silvia e da andrea che vi introduco silvia vitali char director in coface e andrea volontè talent acquisition partner in kla poi silvia andrea innanzitutto benvenuti ci raccontate un po perché nei vostri job title non c'è soltanto l'italia buon pomeriggio nel frattempo buon pomeriggio buon pomeriggio no non c'è soltanto l'italia vado io vai 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 raccontateci un po di dove siete in giro per il mondo allora in questo momento lo scope dell'attività è sull'italia e sulla grecia io faccio parte di una di una multinazionale francese e i paesi in ambito risorse umane che in qualche modo riportano a me o meglio che io gestisco sono appunto l'italia e la grecia mentre in passato con la mobilità internazionale sono stata negli emirati arabi sono stata a dubai per circa un anno e mezzo e quindi ho visto anche questa parte Andrea anche tu mi pare assolutamente grazie della domanda nel senso che io mi occupo oltre che dell'italia dove sono anche domiciliato e mi trovo in questo momento mi occupo per kla che è una multinazionale americana che ha una forte presenza soprattutto negli ultimi anni sul territorio europeo di altri paesi nello specifico Francia Belgio si è aggiunta anche la Danimarca quindi cerco di essere il punto di fedimento per tutte quelle che sono le tematiche di talent per questi quattro paesi ottimo alla grande e mi presento anch'io ragazzi sono Giuseppe lavoro in Joiners e mi occupo a 360 gradi delle nostre esperienze online probabilmente ci siamo già incontrati mi fa piacere se siete qui non solo per la prima volta e con l'esperienza online cerchiamo di darvi strumenti, consigli, suggerimenti per entrare al meglio nel mondo del lavoro poi ne organizziamo davvero di diverso tipo, di diverso stampo quella di oggi l'abbiamo chiamata Ask HR perché sarà strutturata in questo modo adesso magari rompo un po' io il ghiaccio con qualche domandina per Andrea e Silvia però sappiate che poi il cuore della live saranno le vostre domande e le risposte alle vostre domande da parte degli speaker che mi stanno affiancando quindi davvero iniziate a mettere in moto tutto ciò che è tutta la vostra curiosità legata al mondo del lavoro sappiate che c'è una chat che ho visto, avete già inaugurato quindi ormai siete professionisti ma potete anche attivare il microfono e fatelo anzi io dico sempre approfittate di questi momenti non vi preoccupate fate domande con la vostra voce chiacchierate con Andrea e con Silvia insomma poi la chiacchierata riesce anche meglio rispetto alla parte scritta nella chat allora facciamo così partiamo Andrea, Silvia, io vi ho presentato con il vostro job title magari ci dite anche qualcosina in più di voi io dico sempre, chiedo sempre agli speaker che passano da queste parti che cosa vi piace, che cosa non vi piace qualche segreto del vostro mestiere, del vostro ruolo e anche qualcosina della vostra persona perché no? vado io? chi si è alternato? è uguale va bene allora appunto io sono Silvia Vitali e in questo momento direttore risorse umane per l'Italia e per la Grecia di Cofas che è questa multinazionale francese che si occupa di assicurazione del credito e di informazioni commerciali sono entrata in Cofas come seconda esperienza ci sono appunto da 16 anni e in questi 16 anni ho ricoperto diversi ruoli ho visto diversi aspetti delle risorse umane dalla formazione mi sono occupata anche prima ero in un ruolo più regionale quindi avevo una visibilità diversa su altri paesi che fanno parte del mondo Cofas mi sono occupata di recruiting e adesso appunto nel ruolo di direttore quindi di responsabile di tutta la funzione ho tutta la parte anche di amministrazione del personale quindi paghe, cedolini, budget e anche la parte del facility è un'attività, un lavoro che mi piace tantissimo e provo passione per quello che faccio e mi diverto, mi diverto tutti i giorni e quindi questo da un punto di vista lavorativo mi piacciono le persone mi piacciono le culture diverse mi piace interagire mi piace capire c'è forse una base di curiosità che anche ti porta poi a voler continuamente lavorare con le persone e invece da un punto di vista personale sono una mamma di una bambina di 7 anni e riesco a conciliare anche grazie alla flessibilità della mia azienda l'attività di mamma e quella di responsabile delle risorse umane e ho diversi hobby che vanno dalla lettura allo sport e che cerco di praticare nei tempi a disposizione che ho mettendo insieme tutto il resto ottimo ci hai fatto un quadro ideale proprio questo che intendo io per presentazione degli speaker tra l'altro Silvia perdonami perché quando ti ho presentato il Coface l'ho letto all'italiana sì non preoccuparti quanti fanno lo stesso errore che ho fatto io abbiamo Coface 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 quindi non preoccuparti va bene va bene Andrea a te grazie mille beh con la mia diate non si sbaglia perché KLA non puoi sbagliare a pronunciarla allora vi racconto un po' di me nel senso che io sono Andrea Volontè ho 37 anni sono nato e cresciuto a Milano e ho fatto un percorso che magari uno non si aspetta esattamente per quanto concerne la tematica talent o HR nel senso che io ho studiato legge ho iniziato a portare avanti quella che era la carriera per diventare avvocato e poi a un certo punto ho detto ma è quello che voglio fare per tutta la vita? io ho detto no non lo voglio fare e quindi che cosa ho fatto? ho deciso di trovare strade alternative io dico sempre sono stato molto fortunato perché io questo settore non è che l'ho cercato mi ci sono imbattuto e mai più esperienza positiva di quella che ho maturato in questo settore perché mi permette di stare con le persone che è uno degli aspetti più belli in assoluto io quindi ho iniziato proprio da figura junior già con i miei ai tempi avevo fatemi fare i conti 27 anni quindi per cambiare completamente non più giovanissimo ho detto proviamo a metterci in gioco ho iniziato un percorso in ambito talent HR più talent un po' entrambi in ambito assicurativo dove sono stato per tanti anni e mi ha permesso mi ha dato la possibilità di crescere in quest'ambito però mancava un aspetto fondamentale non so se era legato alla situazione o legato proprio all'azienda però il contatto un po' con le persone non esclusivamente italiane non solo sul nostro territorio io volevo qualcosa di un pochino più internazionale quindi ho avuto la fortuna di unirmi a un RPO che è un'azienda che si occupa di offrire servizi di talent o HR in generale ad altre multinazionali e mi sono dedicato all'avvio di tutto quello che è un programma di talent in un'azienda nell'ambito consumer health care per poi capire che quello che volevo fare era farlo internamente non da consulente ma farlo internamente e quindi arriviamo alla mia ultima esperienza che è quella attuale in KLA dove ho avuto proprio la possibilità di unire un po' tutto quello che cercavo lavorare con le persone farlo internamente sfruttare la lingua inglese e confrontarmi con persone da tutta Europa e da tutto il mondo quindi adesso mi occupo proprio di gestire tutte quelle che sono le necessità aziendali da un punto di vista di talent acquisition quindi di come diceva la parola un po' stessa ricerca dei talenti fondamentali in tutta Europa per andare a unire le necessità dell'azienda a quelle delle persone io dico sempre sono fortunato perché ho la fortuna di dare opportunità alle persone quindi sono felicissimo di questo per quanto riguarda invece me come persona le mie passioni sono tante fortunatamente riesco a conciliare un po' tutto nel senso che io odoro gli animali i cani è un qualcosa che ho sempre avuto nella mia vita e poi tanti altri hobby come possono essere musica, sport videogame un po' di tutto sono una persona molto variegata sotto questo punto di vista poi magari grazie Andrea poi magari Andrea Silvia ci dite anche un po' come gli hobby come le passioni personali possono avere effetti a livello a livello professionale no? sia a livello in generale di benessere della persona e anche poi in modo più più come dire più concreto no? perché a volte tutto ciò che facciamo durante la giornata che è extra lavorativo poi può avere dei riscontri al lavoro di quello che parliamo magari diventano argomenti da affrontare in pausa pranzo con i colleghi diventano spunti per quando nasce un nuovo progetto in azienda perché no? le passioni fanno la differenza le passioni fanno la differenza anche durante il processo di selezione voglio partire da questo soprattutto per i profili per i profili junior perché in Italia confermatemelo voi perché ovviamente siete professionisti del campo una volta terminata l'università come dire è facile avere un cd che all'apparenza potrebbe sembrare vuoto tra virgolette nel senso che uno spesso ci chiedono poi sono delle domande più gettonate ma se io non ho fatto altro che studiare e conseguire poi la laurea nel cv che cosa inserisco? ecco io la domanda non vi faccio questa domanda ma vi chiedo ci sono degli strumenti degli espedienti per rendere un cv nonostante sia così pieno di esperienza appealing per per chi poi lo leggerà quindi di di interesse soprattutto che possa spiccare rispetto ad altri questa domanda è libera nel senso che la risposta può essere legata all'impaginazione all'impostazione alla creatività diteci un po' voi anche un po' in base alla vostra esperienza parto io? vai vai Andrea parto io allora io penso che soprattutto per le posizioni più junior quindi dove magari non ci sia un background quindi di esperienze precedenti l'aspetto fondamentale sia spiccare un po' rispetto alle altre persone quindi dare un valore aggiunto all'interno nel proprio curriculum e come lo fai perché poi questa la vera domanda andando a metterci il cuore nel senso che cercando proprio di rappresentare quello che è la persona mettendo piccoli progetti che uno sviluppato durante il percorso di studi anche non attivanti col percorso di studi esperienze di vita importanti viaggi importanti che una persona ha fatto passioni importanti che una persona porta avanti questo è molto importante forse cado veramente nel banale ma una persona che ha giocato per 15 anni in uno sport di squadra ovviamente da curriculum può far risultare maggiormente una propensione a quella che è la voglia di collaborare la voglia di stare insieme la capacità di stare insieme ripeto magari è un esempio proprio banale ma per darvi lo spessore di quello che possa essere sotto questo punto di vista e dall'altra parte le passioni possono essere anche un valore aggiunto da portare avanti e che possono avere degli spunti specifici in quella che poi è la posizione da andare a ricoprire perché di fondo devi far scattare qualcosa nel recruiter nella persona che legge il tuo curriculum e andandolo a personalizzare nella maniera più il termine forse più variegato possibile quello proprio di raccontarsi raccontare anche al di là degli aspetti meramente professionali o di studi chi è la persona cosa c'è dietro questo curriculum perché i curriculum vengono letti almeno ve lo garantisco vengono letti viene letto tutto quello che c'è nel curriculum e un dettaglio in più su di voi questo è un valore aggiunto molto importante che fa scattare quel qualcosa per portare avanti poi il percorso di selezione non ci siamo detti niente io e Andrea non ci conoscevamo ma avrei dato la stessa risposta nel senso che secondo me è proprio quello che quello che deve avergere è proprio la passione sia nel CV e quindi come viene viene scritto e poi mi sento di dire anche nei colloqui negli assessment ai quali magari poi le persone sono sono invitate insomma credo che la passione sia proprio quello soprattutto su profili così junior che che andiamo a cercare come recruiter poi ci metterei anche l'italiano magari scritto correttamente e l'inglese che però l'italiano guarda Silvia sono d'accordo metto anch'io al primo posto ecco l'italiano è vero è vero che altro perché non è tanto un discorso cioè certamente un discorso di italiano e quindi di come dire di conoscenza della nostra lingua ma anche un po' un discorso di attenzione perché tante volte mi auguro che sia così sono errori di distrazione errori di poca attenzione non soltanto di conoscenza della lingua italiana è per assurdo forse a volte anche peggio perché dimostrano appunto una scarsa concentrazione una poca disattenzione poca cura insomma sono tutti quegli elementi che un recruiter percepisce a pelle che magari insomma un po' infastidiscono fanno mettere il CV in fondo alla fila ecco vero verissimo allora intanto sono contentissimo perché siamo 40 quindi mi fa super piacere sono arrivate altre 10 persone quindi alla grande 40 persone 22 luglio 17 e 20 insomma non è scontato grazie per essere qui mi piace che la conversazione si stia accendendo e allora facciamo così io vi faccio altre due domande perché già ho visto nella chat tante considerazioni in merito a LinkedIn colloquio il CV quindi vi faccio due domande che riguardano due aspetti totalmente differenti del primo ne parlavamo dietro le quinte il dress code in azienda perché Andrea signori indossa giacca tutti i giorni giusto Andrea anche con 40 gradi correttissimo ci spieghi il motivo e poi passo alla domanda con gran piacere con gran piacere poi capirete anche la domanda nel senso che vabbè io vengo da un percorso come vi dicevo ambito legale lì si vive giacca e cravatta negli studi legali e poi ho fatto per tanti anni ho lavorato nell'ambito ossicurativo dove lì era caldamente richiesta l'abito ma proprio neanche giacca e basta camicia e giacca abito con la cravatta quindi ero abituato a lavorare anche a 40 gradi con la mia bella abito giacca e cravatta tutto il tempo ovviamente poi nelle esperienze successive questo non l'ho portato avanti nel senso che non era assolutamente richiesto un dress code del genere anzi era dall'altra parte quasi fuori luogo l'eccessiva l'eccessività dall'altra parte però mi è sempre rimasto dentro il portale camicia e giacca quindi ovunque mi vedrete mi vedrete sempre indipendentemente dalla temperatura con la camicia e con la giacca e allora una volta spiegato il motivo per cui Andrea ha sempre giacca e camicia io vi chiedo ma come come ci si veste in azienda cioè qual è il momento in cui possiamo chiedere e capire qual è l'abbigliamento ideale per non essere fuori luogo sia in eccesso che in difetto a livello di eleganza mettiamola così allora chiedere si può sempre chiedere credo che si possa in qualsiasi momento chiedere penso che un momento in cui una persona possa in qualche modo intuire qual è lo stile dell'azienda sia appunto nella fase dei colloqui soprattutto almeno noi lato nostro ci teniamo a fare almeno un colloquio in sede perché pensiamo che la persona debba anche vedere il candidato debba anche vedere come sono gli uffici insomma se gli piacciono dove andrà a lavorare e quindi quello può essere già un momento per capire qual è appunto lo stile lo stile aziendale poi insomma anche lavorando c'è tutto poi quell'elemento anche di intelligenza sociale quindi si capisce che magari non so alla riunione di un certo tipo è meglio presentarsi con un determinato una giacca con una cravatta mentre magari in altre situazioni va benissimo la sneakers e il paio di jeans Andrea ma so come dire approccio giacca e cravatta poi in azienda quando ci si veste tutti in modo in modo differente come viene visto la domanda è provocatoria nel senso che poi ognuno di noi ha il proprio stile e come si fa a conservare il proprio stile come dire quasi fregando se ne hai passatemi il termine di quello che può essere di quella che può essere l'impostazione dell'azienda o dei colleghi del team e così via ma io penso che ci siano come in ogni ambiente diciamo delle passamente delle linee guida che non sono assolutamente restrittive ma lasciano la possibilità poi di spaziare in quello che è il contesto appunto permesso alla linea guida anche qui le linee guida non sono qualcosa di scritto che uno deve per forza seguire come giustamente diceva Silvia ci sono magari delle situazioni in cui è più adeguato un certo tipo di abbigliamento in altre dove puoi permetterti un altro detto questo in questa linea guida c'è la possibilità di spaziare ampiamente nel senso che ripeto anziché andare come magari posso fare io con la camicia e la giacca vai solo in camicia col tuo paio di jeans o comunque metti ad esempio sotto la giacca una maglietta che ti rappresenta un po' di più se comunque hai sempre una con certa eleganza però non per forza di cose devi essere stretto in quelli che sono limitato in quelli che sono degli specifici vincoli l'importante è rimanere in quello che dal mio punto di vista è il contesto in cui vai a lavorare ci sono poi magari degli ambienti in cui sono un po' più formali e negli altri ambienti dove magari è visto meglio vestirsi in un modo assolutamente molto più sportivo dipende sempre da tutte quelle che sono le situazioni ma poi quando vivi l'ambiente quando vivi c'è anche solo il colloquio il percorso di selezione le persone con cui ti interfacci lo capisci capisci dove ti trovi e quelli che possono essere i tuoi spazi di manovra in questo ambiente per poterti anche gestire come dei poti più opportuno chiarissimo grazie grazie a entrambi l'altra domanda che volevo farvi è quella legata allo smart working e la faccio perché so che insomma entrambi beneficiati di questo vantaggio che forse dovrebbe essere scontato dopo qualche anno però non lo è e quindi parliamone ben venga parliamone non è scontato raccontateci un po' il vostro punto di vista raccontateci ovviamente come viene gestito il periodo di smart working e la possibilità di lavorare sostanzialmente da dove preferiamo in KLA in COFAS e diteci un po' magari secondo voi anche come dovrebbe essere gestito come benefit durante un colloquio di lavoro e dal punto di vista del recruiter che lo racconta al candidato e dal punto di vista della richiesta del candidato che magari vuole essere più libero dal punto di vista della sede di lavoro lascio andare Andrea adesso va bene allora innanzitutto racconto quella che è la mia di situazione specifica nel senso che noi senza alcun problema possiamo fare fino a tre giorni di smart a settimana e poi c'è ovviamente questo non è una regola specifica se uno in una settimana non può andare in ufficio non va e magari recupera un pochino il giorno dopo nel senso c'è molta flessibilità sotto questo punto di vista non è che ci sia una regola che se non rispetti ci sono delle conseguenze no non è assolutamente così è un vantaggio che viene dato che io questo è un aspetto molto più personale vido in maniera assolutamente duplice nel senso che da una parte permette di avere una flessibilità maggiore di potersi organizzare soprattutto la propria vita privata anche in maniera più semplice senza un problema io sono di Milano la mia la sede della mia azienda è ad Agrate magari ci impiego 45 minuti che potrei spendere in maniera più produttiva dall'altra parte però secondo me l'aspetto di lavoro in ufficio soprattutto nel percorso iniziale e soprattutto in quella che è la fase di onboarding della risorsa di un profilo ancora di più junior che magari deve capire anche come interfacciarsi nel mondo del lavoro interfacciarsi con le persone la presenza ha un valore aggiunto diverso ok quindi dipende molto anche poi dalla singola persona come preferisce gestire il tutto e poi fa tantissimo anche il ruolo che va a ricoprire la persona perché se è un ruolo molto tecnico dove l'attività on the job è molto più semplice capirle e gestirle vedendo proprio una figura più senior come le va a maturare come le va a svolgere capite che magari è più difficile poter fare un'attività di smart working mentre ci sono realtà ruoli dove la possibilità di capire le informazioni fondamentali si possono fare anche in smart e quindi è molto più gestibile quindi va tutto gestito come il discorso dell'abbigliamento sempre tutto in maniera molto va preso sempre tutto con le pinze ecco non c'è nulla di obbligato nulla di è sempre giusto questo è sempre giusto quell'altro ma sempre tutto calato nel contesto e sicuramente me ne rendo anche conto dall'altra parte ad oggi per i giovani la tematica smart working è un benefit perché ormai lo chiamiamo così molto importante quindi mi rendo conto che debba anche essere ascoltata questa voce da parte dell'azienda quindi sempre con la possibilità di far quadrare tutti i conti però è giusto che venga rappresentato fin dall'inizio io personalmente quando vado a svolgere un primo colloquio conoscitivo è uno dei temi che tocco sempre perché voglio che ci siano queste informazioni ben chiare fin dal principio soprattutto per certi tipi di posizioni Silvia sono anch'io d'accordo con Andrea anche la mia azienda come dicevo all'inizio ci offre molta flessibilità noi abbiamo introdotto lo smart working prima del periodo del covid con uno o due giorni alla settimana e siamo arrivati adesso a dare la possibilità alle persone di fare quattro giorni di smart working alla settimana o una settimana di presenza è un po' come nel caso di Andrea se una settimana una persona non riesce a venire e così via siamo comunque molto molto flessibili perché abbiamo visto che il lavoro per obiettivi funziona quindi si è passato da una modalità diciamo di controllo visivo delle persone a una gestione piena di lavoro per obiettivi che sta funzionando che ci sta portando grandi risultati positivi detto questo siccome siamo un'azienda tra i cui valori c'è quello della collaborazione cerchiamo anche di invogliare le persone per esempio a venire in ufficio quindi abbiamo chiesto per esempio ai manager di organizzare almeno una volta alla settimana una riunione in presenza alla quale invitare le persone a venire oppure organizziamo riunioni del personale magari con un piccolo catering alla fine o insomma con qualcosina da poter condividere questo aspetto della condivisione per noi in cofase è molto è molto sentito e anche noi tendenzialmente in fase comunque di colloquio illustriamo questa possibilità e nel caso di profili junior ma non solo in generale quando assumiamo quindi un newcomer spieghiamo anche che almeno all'inizio nelle prime tre settimane un mese riteniamo che sia opportuna la presenza in ufficio per capire dove è stata inserita la persona per conoscere meglio i colleghi per lavorare a più stretto contatto con i responsabili chiaro quando c'è il catering ci siamo anche io Andrea mi invitiamo mi invitiamo allora dai passiamo passiamo alle domande da parte dei ragazzi ci ritagliamo quest'ultima questa seconda parte della nostra ora insieme rispondere alle loro curiosità ragazzi tra l'altro io inizio a leggere ciò che avete scritto nella chat però ecco se poi voi cliccate sull'opzione alza la mano sto come sto facendo io in questo istante che trovate in basso nella bar degli strumenti qui su zoom vi diamo accesso al microfono quindi la domanda la fate con la vostra voce che è anche più più semplice detto ciò leggo tra poco arrivo da te Federico leggo la domanda di Fabiola che vi chiede come rispondere alla domanda cosa daresti di diverso in cosa saresti speciale se ti proponi per un nuovo settore e non hai esperienza vado io vai Andrea la prima cosa che mi viene in mente è la possibilità di essere plasmati nel senso che quando non si ha esperienze si ha si ha un po' una tavola rasa c'è una maggiore propensione a poter essere anche impostati in maniera specifica nel senso che detta proprio ogni azienda ha un suo modo di lavorare ha un suo modo di impostare le cose il fatto di non avere un background specifico in quel settore con altre aziende nello stesso ambito nello stesso ruolo ti porta ad avere il valore aggiunto che può essere plasmato più facilmente quindi quello può essere sicuramente un valore aggiunto generico per chi ovviamente non ha avuto quel tipo di esperienze ma da poter portare come risposta ad una domanda del genere durante un colloquio che viene impostato in questo modo Silvia se tu vuoi aggiungere qualcosina dici pure io avrei detto la voglia di imparare che secondo me è un valore aggiunto in azienda perché nessuno di noi nasce imparato e quindi portare la voglia di imparare qualcosa di nuovo è sempre un bel valore aggiunto andiamo da Federico ma è pure Federico puoi attivare il tuo audio buongiorno buongiorno a tutti sono Federico laureando in statistica all'università di Padova la mia domanda riguarda la lettera motivazionale perché mi sto affrontando una serie di candidature e ogni tanto mi chiedono oltre al curriculum anche la lettera motivazionale e per quanto mi riguarda io tendo a farla abbastanza breve e coincisa con informazioni dirette e le mie motivazioni personali però volevo chiedere uno se avete dei consigli generali su come scriverla se corta lunga se ci sono delle informazioni da dover mettere utili e poi se l'approccio appunto che uso io cioè quella di essere diretti e coincisi può essere efficace rispetto magari a una narrazione un po' più estesa delle mie motivazioni anche perché e chiudo appunto sto facendo diverse candidature ma magari non ho l'obiettivo di entrare in una precisa azienda ce ne sono alcune che mi interessano però non è che sono spinto così da questa motivazione così particolare a entrare una nello specifico quelle che mi interessano cerco di spiegare perché mi interessano però diciamo che ho motivazioni abbastanza generali anche essendo il primo il primo ruolo lavorativo che avrei grazie allora magari vado vado io dopo Andrea io ti risponderei che allora il tempo talvolta a disposizione di noi recruiter che magari non facciamo solamente quello come può essere il mio caso è sempre molto prezioso quindi io apprezzo se devo dirti la verità sia curriculum piuttosto concisi che anche lettere motivazionali nel caso accompagnino il curriculum piuttosto dirette e appunto concise quello che mi aspetto anche però è sempre di trovare un aggancio a COFAS cioè ci deve essere qualcosa che mi dica che quel candidato sia almeno interessato a capire che cosa facciamo quali sono i nostri valori quindi mi dia uno spunto per farmi capire che davvero piacerebbe venire a lavorare da noi ecco questo sì ecco io mi raggancio proprio questo nel senso che è fondamentale se la cover letter viene fatta che sia personalizzata nel senso che fare una cover letter copia e incolla che tu aggiungi per qualsiasi azienda tu vada a candidarti non ha un valore aggiunto secondo il mio punto di vista se invece tu riesci appunto come diceva Silvia a spiegare le tue motivazioni il perché hai fatto un minimo di ricerca sull'azienda far comprendere che c'è passione voglia dietro di entrare in quell'azienda poi magari come dicevi Federico sono 5 o 6 le aziende però far capire a quelle 5 o 6 aziende che ciascuna di loro ha un valore aggiunto rispetto alle altre e lo fa emergere nel nel teo di presentazione che altro punto fondamentale deve essere piuttosto concisa perché magari riceviamo per una posizione 200 candidature 250 io vi garantisco le leggo tutte però preferisco leggere per una questione proprio di tempo di necessità di essere equo con tutti sia curriculum che lette di presentazione che siano piuttosto concise grazie grazie a te Nicola me pure sì buonasera a tutti ciao sto affrontando anch'io un percorso di candidatura abbastanza intenso e sto cercando sia in ambito nazionale nonostante io viva all'estero però chiaramente anche in ambito internazionale cioè nel paese in cui mi mi trovo la Spagna aziende spagnole ma anche aziende internazionali in Spagna o italiane perché sono italiano fino a prova con drive e lo sconto lo scoglio più grande che incontro sono gli ATS i software che leggono il curriculum e il mio profilo è di un commerciale ho sette anni come commerciale internazionale mi sono stancato del settore ho deciso di formarmi ho mi sono laureato in un master in grafica digitale e quindi non ho esperienza ho un portfoglio di lavori che sto cercando di come dire accumulare con progetti da freelance però chiaramente non ho un'esperienza concreta in un'agenzia di comunicazione piuttosto che in un'azienda che abbia un comparto dedicato appunto alla presenza grafica online e offline quindi creare cover letter su misura per ciascuna azienda passare i test passare gli ATS qual è la chiave per riuscire a parlare con qualcuno cioè la mia idea era bombardare LinkedIn e di contattare direttamente i profili degli HR però ho rischiato il ban più volte quindi devi usare joiners Nicola e no beh ormai da anche joiners ci vediamo tutte le settimane Andrea vuoi andare tu inizio io questa volta allora partiamo dal presupposto che allora contattare il recruiter della posizione su LinkedIn è assolutamente qualcosa di positivo da fare nel senso che è un qualcosa che ti porta sicuramente dei risultati anche in questo caso però permettimi di ribadire il discorso deve essere un approccio sempre personalizzato anche perché con LinkedIn di contatti ne puoi avere pochi immagino adesso non so da parte tua quanti tu ne possa avere nello specifico ma ne puoi avere un numero limitato quindi andarli a personalizzare un pochino per le posizioni che più ti interessano e anche passami in termine in cui tu puoi essere più adeguato per il ruolo è sicuramente fondamentale dall'altra parte ti dico gli ATS ad esempio noi usiamo Workday che so che è uno dei più odiati dall'altra parte perché devi reinserire le informazioni molteplici volte registrarti ogni volta si fa diciamo utilizza dei criteri per andare poi a portare avanti a dare dei punteggi come possono essere se vengono prestabiliti però anche in questo caso nessuno viene scartato a priori c'è sempre una persona dietro io in questo caso che legge ogni singola candidatura evidentemente c'è un passaggio che manca nella tua specifica situazione che possa essere magari ti candidi a delle posizioni che sono magari troppo junior rispetto a quello che vorresti fare tu perché comunque si l'hai fatto in un settore diverso ma hai già delle esperienze di un certo tipo che ti possono portare magari ad avere dei riscontri di un altro tipo o magari che invece sono troppo senior perché richiedono un'esperienza specifica in quel tipo di ruolo quindi possono essere molteplici fattori sotto questo punto di vista ecco però dall'altra parte ti posso dire che gli ATS non ti scartano a prescindere e c'è sempre qualcuno che controlla quindi se riesci magari a seguire un po' i consigli che abbiamo già accennato è sicuramente utile e per quelle che ti interessano di più il contatto ripeto personalizzato secondo me può aiutarti in quella che è la tua ricerca del lavoro grazie Andrea a te grazie Nicola in bocca al lupo ovviamente allora prendo qualcosina dalla chat Francesca ciao a tutti volevo chiedervi i test attitudinali quanto possono essere veritieri e quanto incidono sull'intervista telefonica oddio noi non facciamo interviste telefoniche solamente telefoniche quindi soprattutto su profili junior questi ultimi anni realizziamo degli assessment dove ci sono anche vengono anche fatti dei test così attitudinali e anche di di team e incidono hanno sicuramente un peso nell'ambito finale della della valutazione ma la valutazione è data poi anche dal dal colloquio che viene fatto con i char che viene fatto con la linea che viene fatto con più persone della linea perché normalmente non viene coinvolto solamente il responsabile diretto ma vengono coinvolti anche dei colleghi o responsabili anche di altri dipartimenti quindi noi ampliamo molto in ambito proprio di selezione di profili junior perché pensiamo che sia assolutamente necessario avere punti di vista diversi se andrea vuole aggiungere qualcosina altrimenti poi possiamo passare a un'altra domanda tendenzialmente questo è nel senso che non è qualcosa di imprescindibile che ti preclude la possibilità di proseguire sicuramente ti danno una panoramica un po' più completa su quello che è il profilo della persona ma poi questa persona viene vista da molteplici che sia l'aric manager diretto o comunque da altri colleghi di modo che ci sia comunque una valutazione complensiva il più omogenea possibile da un singolo specifico grazie Diana eccomi qui ciao buon pomeriggio ciao buon pomeriggio allora io ho una domanda la premessa è la seguente sono laureata in giurisprudenza e ho 30 anni come Andrea credo da un po' di tempo di non voler svolgere la professione forense anche se comunque ho quasi portato a termine la pratica forense quindi penso di abilitarmi per avere anche un titolo in più però la domanda è la seguente io da un po' di tempo a questa parte ho iniziato ad inviare il mio curriculum ad alcune aziende alcune posizioni lavorative però non lo faccio aiuta cioè non mando il curriculum solo per la voglia di mettermi nel mondo del lavoro ed iniziare un percorso anche perché ho 30 anni quindi la voglia chiaramente c'è di volermi realizzare e uscire da questa situazione però penso c'è temo di dover iniziare per forza un lavoro costringermi a dimettermi in un contesto lavorativo e dopo non riuscire ad uscirmene da quel contesto perché magari fondo la mia esperienza in quel contesto e l'azienda che si occupa di altro non mi prende proprio in considerazione quindi vorrei capire se questo è sbagliato perché ad esempio ho un'amica che lavora per una banca che da più di un anno un anno e mezzo mi dice Diana manda il curriculum te lo faccio mandare io mandalo magari inizi non è detto che tu debba continuare ma a me il contesto bancario non piace o almeno credo che possa non piacermi perché chiaramente fin quando non lo fai non lo sai però diciamo me ne vado per un'idea non mi alletta l'idea non mi entusiasma e quindi fino adesso non l'ho mai fatto perché dico se poi inizio in un contesto bancario non riesco ad uscirmene che faccio è sbagliato quindi questa è la domanda l'importante è iniziare e poi dopo provi a cambiare ti parlo della mia esperienza perdonami Silvio inizio io così visto che sono un po' affine a quello che è fatto io sono per il provare e il buttarsi sempre nel senso che soprattutto nel tuo specifico caso dove da quello che ci hai detto non hai un'idea di cosa ti piacerebbe andare a fare concretamente al di là del percorso a potenza come fai a scartare qualcosa se non l'hai provato quindi ti direi inizia prova poi anche fare colloqui ti aiutano tante volte fare i colloqui ti aiuta tante volte a capire le aziende cosa cercano le aziende cosa cerchi tu perché ovviamente il colloquio non è solo una fase dove il recruiter ti fa solo domande e non ti dai informazioni tante volte ti vengono spiegati molti aspetti e molte tematiche che possono essere utili a te per capire se quella posizione che pensavi fosse in linea con quello che potesse piacerti effettivamente lo è o meno certo che se non inizi mai a candidarti a buttarti non lo scoprirei mai anche perché poi è difficile che quando passami il termine alle illuminazioni dici questo è quello che voglio fare mandi una candidatura due candidature tre candidature subito hai la fortuna poi magari succede te lo auguro ti auguro solo il meglio che tu riesca con una candidatura ma magari ci vuole del tempo ci vogliono tentativi quindi se non inizi a capire anche come funzionano certe dinamiche poi è sempre tutto più difficile quindi io sono per iniziare a buttarsi certo che poi ovviamente vista anche passami l'età che abbiamo che abbiamo avuto nel cambio bisogna anche comprendere velocemente se è quello che ci piace fare o meno perché tempo passa per tutti è un qualcosa che comunque l'esperienza in un settore poi ce la portiamo avanti ovvio che se poi un lavoro lo portiamo avanti 3-4 anni è più difficile 35 anni non è impossibile però inizi a capire cosa ti piace perché se non inizi a mandare il fatto è che io qualche idea ce l'ho il problema è che poi devi avere anche dei requisiti delle skill richieste per quelle determinate posizioni cioè ti faccio un esempio molto pratico dicevo che la pratica forense cioè la professione forense per me è scartata c'è un ambito che mi piacerebbe sempre teoricamente è l'ambito societario ma questo lo dovevo capire già ai tempi dell'università perché se tu vai a vedere le posizioni aperte appunto nell'ambito societario richiedono percorso accademico brillante almeno 108 su 110 cioè io ho lavorato nel mio percorso di studi non avevo intenzione di fare questo quindi non mi sono preparata a questo così come non mi sono preparata ehm per tantissime altre posizioni che richiedono la lingua fluente livello C1 meno B2 esperienze all'estero cioè il fatto che le aziende dicano ok voglio assumere una posizione junior io ho visto che poi nella pratica non è proprio così perché comunque tu mi richiedi una posizione junior che non ha magari ehm nello specifico una determinata competenza però poi vicino mi vuoi anche l'esperienza anche un solo erasmus per dire che un'esperienza all'estero non è quindi prettamente specifica con riguardo al lavoro però io sto notando questo quindi si fa proprio fatica di iniziare un percorso lavorativo l'ho visto ehm con me ma l'ho visto anche con persone a me vicine che sono uscite dal loro percorso in maniera più brillante e comunque ci hanno impiegato un anno per trovare lavoro in uno stagio tra l'altro cioè è difficile oggi è proprio bellissimo però ti chiedo hai provato a candidarti a una di queste posizioni quelle là anche se avevano anche se avevano dei requisiti particolari nel senso che ti faccio il discorso dall'altra parte ovviamente l'azienda cerca di rappresentarsi quello che è il candidato ideale poi però c'è il mercato no? quello che magari può essere trovato anche sul mercato magari con la specifica skill con la specifica esperienza però ripeto leggo il tuo curriculum vedo che hai detto che hai lavorato durante il tuo percorso di studi c'è una voglia di mettersi in gioco e di portare avanti i due task in contemporanea ti considero anche a seconda di quello che hai fatto nel tuo percorso se invece tu non mandi la candidatura io non posso neanche considerarti è duplice non devi considerare anche l'azienda ovviamente cerca di fare il suo interesse cercare il candidato ideale sotto ogni punto di vista ma esiste? lo trova? forse sì forse no iniziamo a mandare la candidatura e così iniziamo a confrontarci almeno questo è il mio punto di vista ovviamente sì sì ci sta ci sta bocca al lupo stiamo d'accordo grazie 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 allora già vieni puoi aprire il microfono non ti sentiamo vediamo ok so che stai connettendo all'audio vai no prova nelle impostazioni in basso a sinistra dove c'è audio il microfono e seleziona il seleziona il microfono computer o eventualmente se le cuffie vai riproviamo no non riusciamo a sentirti io vado avanti poi nel caso torniamo torniamo da te Flavito scrive quanto un master in risorse umane che a livello di conoscenze non aggiunge molto può costituire un titolo preferenziale dopo una magistrale in psicologia del lavoro magari ecco la domanda la ampiamo un po' master in ambito risorse umane voi che siete professionisti in questo che cosa ci dite a riguardo? io ho fatto un master in risorse umane che mi ha dato l'opportunità di entrare tra l'altro erano altri anni effettivamente forse meno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro però appunto mi ha dato l'opportunità di entrare tramite uno stage nella prima azienda nella quale poi ho iniziato a lavorare e da lì in poi insomma ho fatto appunto la mia la mia carriera professionale aggiunge o non aggiunge per me che venivo da un percorso diverso sicuramente ha aggiunto e penso che dia comunque un overview rispetto a quelle che sono i diversi aspetti del del mondo delle risorse umane anche qui aiuta secondo me a scegliere quello che uno vuole fare magari un pochino da grande se avere un percorso più da generalista avere un percorso più amministrativo fare un percorso per diventare recruiter quindi non direi che potrebbe essere una scelta interessante dopo aver fatto un percorso invece di studi diverso ecco io andrei vado avanti così magari riusciamo a fare più domande possibili allora facciamo così torniamo da Javier vediamo se ti funziona il microfono altrimenti poi vado da Alberto ora mi sentite? ora sì ciao allora buonasera a tutti allora io sono diciamo neoloriato in comunicazione tecnologia e cultura digitale presso la sapienza di Roma e quindi diciamo tipo che ora sto affrontando un periodo di candidatura iniziando questo processo perché innanzitutto prima nella mia testa diciamo avevo come pensiero che magari tipo che con questa laurea era diciamo troppo generale e quindi volevo fare tipo una magistrale però mi sono reso conto che magari tipo come dirlo agli assiende magari cioè serve diciamo qualcosa di più pratico per dirla così e quindi mi sono imbattuto per quanto riguarda tipo la composizione del curriculum e volevo sapere tipo quale sono i criteri di selezione i processi di valutazione perché cioè al momento proprio tutto questo processo proprio niente nessun colloquio tutto rifiutato quindi volevo sapere un po' questa cosa cerco di vado se posso vai 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 cerco di rispondere per quello che è un po' compreso rispetto alla tua domanda nel senso che non è semplice perché è una situazione molto personale quindi non è un concetto generale ma è molto individuato su di te nel senso che dipende da molti fattori mi spiego meglio tu hai detto che hai fatto una triennale non sai quindi se proseguire con un master o con un'esperienza lavorativa e cercare subito dipende molto da quello che hai fatto nel frattempo da quanto tempo ci hai impiegato per fare il tutto dipende poi quello che vorrai andare a fare successivamente se ti puoi fare più ottenere un master è un'esperienza lavorativa va compreso molto la tua situazione personale per questo non è semplicissimo rispondere a questo tipo di domanda quello che ti posso dire è sicuramente di comprendere in primis tu cosa vuoi fare perché una cosa è ben diversa tra cercare lavoro dopo un'etraennale una cosa invece è voler proseguire con una specialistica per poi andare a inserirti nel mondo del lavoro tu cosa preferisci fare tu cosa vuoi fare al momento della tua vita quali sono le tue priorità in questo momento decidi questo e poi concentri i tuoi sforzi su quello che vuoi andare a fare nel mondo del lavoro il mondo del lavoro comunque non è semplice iniziare un percorso quindi non ti abbattere se magari hai mandato cinque candidature dieci candidature e non sono andate a buon fine sicuramente ci vuole tanta pazienza magari puoi capire anche magari sentiti libero di scrivere quando ti rispondono ad una candidatura negativamente che cosa puoi migliorare magari non ti risponde nessuno ma magari trovi una persona un po' più che ha un po' più di tempo per farlo ti dà le indicazioni che puoi sfruttare nel frattempo quindi è in primis secondo te a te capire bene cosa vuoi in secondis concentrarti su quello che vuoi portare avanti e raccogliere feedback per andare a sistemare quella che è la tua situazione grazie figurati grazie a te Alberto dai così copriamo più domande possibili non ti sentiamo prova anche tu magari a sistemare scegliere l'opzione microfono che a volte Zoom non la prende in automatico se vai sulle impostazioni dovresti trovarla si sentiamo si ora si vai allora niente io praticamente dopo essermi laureato o la laurea magistrale ho lavorato come investigatore un po' come Andrea poi ho capito che non era quello che volevo fare nella vita e quindi però ho preso una pausa per dedicarmi proprio alla mia passione che era la musica e ho fatto il diploma in casa ora quello che mi chiedevo io siccome c'è un buco lavorativo di fatto nel mio curriculum di più o meno due anni che è stato il periodo necessario al diploma e ora però vorrei entrare nel mondo del risorso umano può essere visto come un limite per il fatto di aver dedicato tempo a una passione dovrei magari non lo so fare personalmente conseguire un altro titolo investire in un master perché magari viene visto come un limite il fatto di di aver preso una pausa dal lavoro e aver avuto un periodo di tempo di un anno e mezzo prima di capire che volevo magari entrare nel mondo delle risorse umane come devo muovermi allora ti direi che è tutto spiegabile nel senso come dicevamo all'inizio penso che buco come dici tu di esperienza anche lavorativa in un CV possa essere assolutamente spiegato magari proprio all'interno magari di una lettera di una lettera motivazionale oppure in fase di un colloquio io non ci vedo niente di di strano o di assurdo purché uno poi si è in grado effettivamente di spiegare le ragioni per cui le passioni i motivi che l'hanno spinto a scegliere una strada diversa per un certo periodo ma perché ho avuto l'impressione comunque facendo dei colloqui ho notato che c'è stata anche un'insistenza magari perché hai fatto questo percorso sei sicura quindi mi è quasi venuto il dubbio di dire vabbè quasi quasi la toglierei questa esperienza della vita torniamo sul lavoro perché diventa quasi viene quasi vista negativamente anche voi prima in realtà avete detto che le passioni sono ovviamente un valore lo credo anche io però magari in alcuni contesti lavorativi poi è previsto come vogliamo la persona più infallerata non so è una ocella che magari abbia anche troppe falsi soluzioni era quello il dilemma comunque grazie grazie mille a te Alberto niente andiamo da Camilla mi sentite? ciao a tutti ciao io ho una domanda specifica riguardo al curriculum ossia se si hanno delle breve esperienze di lavoro precedenti in un certo ambito e poi si vuole candidarsi per profili relativamente junior per un ambito completamente diverso è giusto inserire le mansioni fatte nei lavori precedenti nello specifico anche se non sono particolarmente rilevanti per il nuovo ruolo o è sempre meglio focalizzarsi su quelle magari poche poche mansioni che hanno anche solo lontanamente diciamo a che fare con il nuovo ruolo per cui ci si candida allora qui ti risponderei rimanendo sempre nel conciso all'interno del curriculum vita appunto io cercherei di esprimere quelle che hanno le tue mansioni a 360 gradi ripeto rimanendo comunque nel conciso quindi non per un'esperienza di sei mesi magari scrivere mezza pagina di curriculum perché poi inizia a essere problematico per la lettura dall'altra parte però in generale mi sentirei di dirti di scrivere quello che hai fatto scrivere le tue responsabilità alcune saranno attinenti alla nuova attività altre meno ma per forza di cose ma anche se fai lo stesso ruolo ci saranno delle attività che magari non dovrai andare a rifare perché hanno degli scoop diversi sono aziende diverse e magari inquadrano il ruolo in maniera differente quindi dare un overview a 360 gradi è sempre un valore aggiunto però ripeto anche qui sempre rimanendo nella ucciso bravissimo ok grazie mille a te Camilla allora a me dispiace non riuscire a rispondere a coprire tutte le domande in realtà sono davvero tante poi ho dato come dire preferenza a chi si è voluto esporre anche con con la propria voce ad ogni modo Silvia Andrea posso rimandare i ragazzi i vostri profili LinkedIn così da spulciare un po' insomma tra le vostre esperienze soprattutto poi le vostre realtà e magari trovare anche belle opportunità e diventare eventualmente colleghi sarebbe la cosa più bella quella che ci auguriamo poi di creare connessioni tra speaker e partecipanti noi siamo stati precisissimi Andrea Silvia io vi ringrazio tanto per il vostro tempo mi ha fatto piacere conoscervi prima di tutto e poi ascoltare da voi un po' di un po' di storie perché poi alla fine di storie si parla chiudo chiedendovi di dare il consiglio generico perché poi ognuno ha delle esperienze dei background non diversi ai ragazzi che poi il consiglio che avreste dato e dareste meglio ancora ai voi di qualche anno fa io vi direi di coltivare le vostre passioni io invece mi aggancio su quello che è stato il mio di percorso e dico buttarsi buttarsi sempre provare sbagliare e capire quello che chi ci piace che poi si ricollega appunto con quanto detto dobbiamo farlo per tanto tempo il nostro lavoro alla fine torna tutto lì grazie grazie mille a tutti a voi per essere messi in gioco a tutti i partecipanti per averci fatto compagnia grazie buona serata a voi buona serata a presto ciao